Bentornati ad una nuova puntata di Cronache Bestiali, la nostra trasmissione interamente dedicata al mondo degli animali. Come in ogni puntata ci occuperemo di salute, di alimentazione, conosceremo come comunicare con il nostro amico animale ed infine conosceremo un amico a quattro zampe in cerca di famiglia. Siamo nuovamente in compagnia del dottor Martini per parlare della salute dei nostri amici a quattro zampe e oggi ci occuperemo del pericolo vipere. Ecco, dove possiamo trovarle? Le vipere si trovano in ambiente rurale, anche se poi si possono anche spingere fino alle abitazioni, non proprio dentro la città, però insomma a casa in campagna, spesso chi vive in campagna si fa questi incontri purtroppo. Il periodo è la primavera in cui le vipere escono dal letargo e cercano il calore del sole, quindi i posti più a rischio sono per esempio le rocce oppure i marciapiedi dove il sole scalda queste strutture, quindi la vipera si mette lì proprio per prendere e ricevere il caldo e quindi uscire in maniera definitiva dal letargo. Tra l'altro questo è il periodo anche più pericoloso perché la vipera che esce dal letargo ha molto veleno nelle ghiandole che lo producono, perché per l'appunto non si sono svuotate durante i pasti che ha fatto, quindi è il periodo anche più pericoloso, cioè un morso di una vipera che è da poco uscita dal letargo è sicuramente più pericoloso rispetto a una vipera che è a fine stagione, e anche perché le vipere sono, è vero che sono un pochino più intontite, però sono anche affamate in questo periodo. Come la riconosco una vipera? Le vipere ci sono delle caratteristiche particolari, intanto bisogna guardare la testa che ha una forma triangolare, questo è il segno più importante, le dimensioni contano poco e anche il colore ci sono vipere che anche come colore possono assomigliare a animali non velenosi, quindi la cosa fondamentale è distinguere la testa, poi ci sono anche dei corsi che insegnano per persone che possono essere più a rischio a riconoscere, ci sono immagini a cui possiamo accedere tramite internet per avere un'idea di come è fatta una vipera. Cosa fare per prevenire, insomma cosa fare attenzione? Bisognerebbe evitare di frequentare questi posti dove le vipere amano stare, che sono quelli che dicevo prima, poi dal punto di vista preventivo non è che si può fare molto di più, un tempo esisteva il siero antivipera che molti cacciatori tenevano con sé per esempio per gli animali quando andavano a caccia, ma in realtà non si trova più il siero perché erano più i problemi che dava al siero, soprattutto di tipo allergico, shock anafilattici, che poi è il morso stesso della vipera, quindi fare attenzione, andare in giro con un laccio mostatico non sarebbe male perché una delle prime cose che si può fare quando una vipera morde è bloccare dal punto di vista circolatorio la zona che è stata morsa per evitare che il veleno si diffonda e poi avere un veterinario di riferimento dove andare se succede un evento di questo tipo. Ecco, cosa fare? Se il mio cane o se il mio gatto viene morso da una vipera e come me ne accorgo? Non è facile accorgersene perché o vediamo il momento in cui viene morso o a volte si può sentire solo un guaito, per esempio un cane che cammina si sente un guaito e poi improvvisamente inizia a tenere per esempio una zampa alzata o una zona che inizia a gonfiarsi. Questo può essere segno che l'animale è stato punto per esempio da un insetto, però potrebbe essere anche segno che è stato morso da una vipera. In particolare la vipera si dovrebbero riconoscere i segni dei due denti, uno vicino all'altro, due puntini e intorno a questi puntini la zona inizia a gonfiarsi, può essere dolente, può anche cambiare di colore perché nel punto di inoculo del veleno si può creare una necrosi, quindi una morte dei tessuti circostanti e quindi questi sono segni che possono fare capire che il cane è morto da una vipera. I sintomi sono molto variabili perché dipende dove viene morso un animale, quanto veleno aveva la vipera, quindi possono essere o dei sintomi molto blandi che possono simulare il morso di un insetto fino a sintomi molto gravi con l'animale che perde conoscenza, può avere segni neurologici, quindi convulsioni, può andare incontro a ciò al canna filattico se è allergico al veleno e quindi nel dubbio bisognerebbe isolare la parte, come dicevo prima, quindi mettere un laccio che è e correre dal veterinario. Si rischia la morte dell'animale? Purtroppo sì, se la vipera tanto veleno e l'animale colpito è piccolo o viene morso in zone molto irrorate come il muso, si può arrivare anche alla morte. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a quattro zampe, siamo nuovamente in compagnia da dottoressa Chiara Caporali del centro dermatologico veterinario, oggi parliamo di piodermite del cane, ecco innanzitutto cosa è? Allora, la piodermite del cane è un'infezione dell'acute su base batterica, quindi ha come origine un'infezione batterica. Come si manifesta? Ci sono varie presentazioni cliniche, dipende dalla gravità della piodermite, ci sono delle forme superficiali che si manifestano con la presenza di papule e pustole, le forme invece di piodermite più profonda, quindi più gravi, si caratterizzano per la presenza di foruncoli, veri e propri foruncoli che poi confluiscono fino a formare delle placche e comunque il tutto poi esita in croste e nel momento in cui poi la crosta viene via, molto spesso quello che rimane è un'area di aleopecia, quindi non sempre si vede tutto il processo di papula, la pustola e quant'altro, ma rimane la crosta o la zona di alopecia, quindi di mancanza di pelo. Quali sono le cause? Le cause? L'infezione batterica non è quasi mai fine a se stessa, nel senso che quando un cane ha una piodermite bisognerebbe sempre ricercare una causa sottostante, ossia la piodermite è secondaria a qualche cosa. Il più delle volte la causa principale è una forma allergica, più raramente possono essere forme parassitarie, anche semplicemente un'infezione da pulci, oppure delle endocrinopatie come l'ipotiroidismo e il cushing che possono interessare i nostri cani. Come si cura? Ci sono tanti modi per curare una piodermite, le forme più superficiali sicuramente non necessitano più delle volte di un trattamento per bocca, ma è sufficiente trattarle con una terapia locale, quindi una terapia topica, che può essere una shampoo terapia se la piodermite è più estesa, oppure con l'utilizzo di pomate o schiume se è una forma più localizzata. Se invece ho una piodermite profonda è necessario ricorrere a un antibiotico per bocca, quindi un antibiotico sistemico. Esiste il fenomeno dell'antibiotico resistenza in campo veterinario? Sì, purtroppo sì, è un fenomeno emergente quello dell'antibiotico resistenza, ecco perché una piodermite, soprattutto superficiale nel cane, che è comunque una forma molto comune di dermatite, dovrebbe essere trattata quanto più possibile con la terapia locale e cercare di evitare l'uso di antibiotici per bocca e soprattutto è fondamentale identificare la causa sottostante, perché se non si identifica la causa sottostante la piodermite ritorna, quindi recidiva e quindi tutte le terapie fatte fino a quel momento sono inutili, bisogna ricominciare da capo, ecco perché bisogna evitare di dare gli antibiotici per bocca perché molto spesso non hanno senso, sono fini a se stesse. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nikos Dog Villa già leva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Landing e fetta servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osidi verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestatore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197. Bentornati, siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti. Oggi parliamo di cuccioli. Ecco, innanzitutto come si sceglie un cucciolo? Allora, la scelta del cucciolo a parte tra le razze, quello che morfologicamente ci piace di più. Però la cosa molto importante che sempre si sottovaluta è la scelta del carattere. Perché nella cucciolata c'è il cucciolo con carattere più forte, con carattere più debole, più sicuro, meno sicuro. E bisogna scegliere un carattere che combacia con noi un pochino. Perché senza avere una linea comune spesso e volentieri nascono dei problemi. Perché se io sono una persona che non ha grandi capacità autoritarie e prende un cane molto forte, si può trovare in difficoltà. Mentre cani troppo deboli su persone troppo autoritarie, perché molto spesso capita proprio questo. Vedi persone estremamente, non tanto autoritarie, perché quella è una cosa rigide, rigide, ferrie, su cani molto sensibili che vedi rapporti distrutti. Perché comunque sia la persona non riesce a trovare la linea di comunicazione con il cane. Qual è l'alchimia che si dovrebbe creare? È una simbiosi, una sintonia. Comunque sia il cane che ricerca nel padrone senza che il padrone gli abbia insegnato determinate cose, anche spesso volentieri lo vedi. Il grosso del rapporto lo vedi nelle passeggiate e nel richiamo. Cioè puoi avere un cane che cammina libero con te in mezzo a un bosco e lo vedi che il cane va, parte e ritorna. Ci sono razze che non te lo faranno mai. Un segugio sarà quasi difficilissimo perché hanno predisposizioni venatorie molto forti. Però vedi questa interazione. Comunque sia c'è una ricerca del padrone. Il segugio magari ti parte, ti fa 800 metri in una direzione e poi ritorna. Però c'è un'interazione. Quindi come scegliere il cucciolo? Lo scegli fondamentalmente, la cosa migliore è scegliere per il carattere. Quindi devi scegliere spesso dovrebbero affidarsi allevatori, allevatori seri, persone veramente che allevano per amore. O anche farsi aiutare da un addestratore. Perché l'addestratore può leggere la persona e capire qual è il cucciolo più adatto a quella persona. Come mi approccio poi una volta che il cucciolo è arrivato a casa? Sempre far venire il cane. Sempre lasciare che anche se sono 20 cuccioli, 10 cuccioli, tanto ti vengono tutti addosso perché se come entri nella loro zona sei la novità ed essendo tu la novità vai conosciuta, analizzata, sono curiosi. E quindi lasci che ti vengano. Poi quando sei a casa, stessa situazione, lasci che il cucciolo venga. Naturalmente ha bisogno di esplorare, di conoscere quell'ambiente perché è proprio quella curiosità che porta a quella volontà di conoscenza. E devo lasciare che la esprima. Perché se io gli impedisco di esprimerla, inibisco certe sue caratteristiche. Sto già lavorando il cane con delle chiusure, sto mettendo delle pressioni psicologiche e ciò vanno già a minare il rapporto. Quindi lo lascio, lo porto in casa, lo poggio a terra, libero di esplorare tutta la casa, tutto il giardino, ovunque, qualunque ambiente. Finita l'esplorazione, cosa devo fare? Ma già durante l'esplorazione cerchi un'interazione. Richiami, comunque sia il cucciolo che l'ha conosciuto una o più volte prima di portarlo a casa. Quindi c'è già un briciolo di relazione. Lo chiami a te, lo coccoli, lo accarezzi, senza essere invasivo. Sicuramente se il cucciolo mi si prende, mi si chiude in un angolo, l'ideale non è andare lì e convincerlo a uscire. L'ideale è lasciarlo lì un attimino. Dagli il tempo di uscire, perché se mi si è chiuso su un angolo ha paura. Ha un'insicurezza ambientale forte. E quindi devo lasciare che la maturi, la sviluppi, esca da solo, perché se mi esce da solo avrà una determinazione più forte per affrontare la prossima insicurezza ambientale che avrà. Va bene. E questo per quanto riguarda la gestione del primo giorno, la prima ora. Il cane, dopo che ha conosciuto, vedrete che il cane cercherà un'interazione. Perché ok, è finita la novità, facciamo qualcosa. Allora lì dovrete essere voi presenti. Questo, i primi due giorni del cucciolo, è bene potersi essere a stretto contatto, per poter dare subito una linea guida. E da lì, in quei giorni lì, tu inizi a impostare le prime cose. Le prime cose di rapporto proprio. Ah, dopo lì metti subito dei paletti. Questi paletti l'importante è farli rispettare con la massima coerenza. Perché se non c'è coerenza il cucciolo poi, che sono malleabile, è come un bambino piccolo, ti prende subito la mano. Dici ok, faccio così, ok, così conquisto e faccio quello che voglio. No, invece è sempre così. Schermo molto rigido, che a volte è faticoso applicarlo sul cucciolo. Non è che bisogna essere cattivi, però il tavolo no, lo prendi e lo sposti, lo prendi e lo sposti. Lo fai 50 volte, alla fine il cucciolo capisce. Poi c'è cane e cane, logicamente. Magari qualcuno è un po' più testardo, qualcuno capisce prima, qualcuno dopo, però l'importante è essere coerenti e costanti. Ecco, per oggi è tutto. La prossima appunta la torneremo a parlare di cuccioli. Bentornati all'appuntamento con l'alimentazione. Oggi parliamo di conigli e piccoli roditori. Ecco, cosa possiamo trovare in commercio? Sì, buonasera. Allora, tendenzialmente l'alimentazione di conigli e piccoli roditori deve essere obbligatoriamente quasi al 100% vegetale. Sarebbe meglio che l'alimentazione principale sia fieno di montagna o qualche prodotto sempre assolutamente vegetale. Ultimamente ci sono anche dei pellet, però noi consigliamo il pellet un pochino più come integrazione o se ha qualche problema che spesso accade nei conigli di appetibilità o anche nelle cavie. Particolari problemi non ne hanno. L'alimentazione deve essere quasi tutta vegetale. Tendenzialmente sarebbe meglio anche un po' di frutta, se è possibile. Da sfatare un po' il mito dei semi, di girasole, queste cose così che possono creare problemi a livello gastrointestinale o anche urinario. Quindi noi consigliamo ai nostri clienti l'alimentazione sia esclusivamente di fieno al 90% con un 10% di qualche snack alla frutta e un po' di pellet nel periodo specialmente di cambi di stagione, dove anche i conigli, come tutti animali, come tutti esseri viventi, hanno bisogno un pochino più di un supporto a livello energetico. Per quanto riguarda invece i piccoli roditori, insomma parliamo di cavi e criceti? Allora, tendenzialmente anche loro il discorso è un po' uguale, però nelle cavie e criceti e via dicendo è meglio aggiungere invece lì un po' di semi, dal seme di girasole a un seme di soia, di lino, perché nei piccoli roditori hanno anche bisogno un pochino più di energia, perché hanno un metabolismo molto accelerato e quindi hanno bisogno un pochino più di supporto energetico. Quindi aggiungiamo sempre un po' di semi, che siano di girasole, che siano di soia, di lino, per dare un pochino più energia al nostro animaletto. Ecco, la problematica dei roditori, come dice il nome stesso, insomma è questa crescita dei denti. Assolutamente sì, particolarmente accentuata nel coniglio, dove i suoi due incisivi davanti devono essere sempre sotto controllo, perché appunto la crescita un po' smisurata di questi due denti può creare seri problemi all'apparato digerente. Contiamo che tutti, dal coniglio a roditori in generale, è fondamentale perché con i denti davanti staccano e riescono un po' a staccare il cibo, a spezzarlo, ma in realtà la masticazione avviene con i denti posteriori. Quindi comunque vada sempre grande attenzione sugli incisivi nel coniglio e su quello che è la masticazione dei piccoli roditori, perché è molto importante, perché hanno un intestino molto corto e quindi devono ben masticare in modo che la digestione parta e abbia il suo corso giusto. E' alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osidi verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti, perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità alla competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa, addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a ecisport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con le adozioni come sempre al canile di Arezzo gestito dall'EMPA. Oggi conosciamo Polla. Chi è Polla? Allora, Polla è un meticcio di circa 6-7 anni, di una taglia media contenuta, medio piccola, dai. Qual è la sua storia? Allora, Polla è stato ormai in canile da un paio, da 2-3 anni. È stato trovato vagante per strada, ovviamente senza microchip, senza medaglietta e nessuno l'ha mai reclamato. Ecco, adesso è qui al canile ma va d'accordo con tutti gli altri cani, con i gatti, insomma, non ha alcun tipo di problema? No, lui è un cane molto bravo, molto tranquillo, va d'accordo con tutti i cani, sia i maschi, le femmine, anche con i gatti e tra l'altro è un canino che l'abbiamo portato spesso nelle nostre manifestazioni. È un cane bravo, che sa andare al guinsaglio, che non tira, quindi è anche adatto alle persone più anziane. Adatto a tutti i tipi di famiglie, va d'accordo con i bambini? Sì, sì, è un canino molto bravo, molto adatto a tutte le situazioni. Ecco, Polla è adatto anche a tutti i tipi di abitazione, cioè per lui può andare bene un appartamento o qualunque altro tipo di soluzione? Sì, assolutamente, va benissimo, sia una casa col giardino che un appartamento, è un bravo straccacucce, quindi anche in un appartamento con un divano si troverà benissimo. Chiunque fosse interessato può venire qua da voi al canile comunale, come sempre? Assolutamente, glielo facciamo conoscere e poi così possono portarlo fuori per iniziare a conoscersi. Ecco, bentornati, siamo nuovamente in compagnia di Nico Mancini, oggi parliamo di acquisto consapevole. Quando si sceglie di adottare, di accogliere un nuovo membro della nostra famiglia, da dove si parte? Allora, si parte da una valutazione molto approfondita, perché il cane oltre che essere un immenso piacere è anche un grandissimo impegno, lo sappiamo. Quindi, per fare un esempio banale, però non per tutti è così banale, inizierei a pensare, se siamo impegnati così tante ore al giorno, non ci scordiamo che il cane è un animale da branco, che la solitudine non la concepisce. Se ipotizziamo tutta la famiglia è fuori casa per otto ore al giorno, io escluderei la possibilità, anche solo per questo motivo, di poter accogliere un cane in casa. Questo è il primo di tanti altri ragionamenti che una famiglia può fare, aiutato magari con un cinofilo, con un educatore, ancora prima di prendere il cane in famiglia. Dopo ci sono due punti fondamentali per valutare come prendere il cane. Si può prendere un cane seguendo le indicazioni che ci dà la razza, e quindi scegliere per razza il cane che morfologicamente e caratterialmente è più incline alle nostre abitudini, oppure possiamo scegliere il cane diciamo così per carattere, ovvero si va in un canile dove ci sono tanti cani, dove oggi ci sono anche dei professionisti, educatori cinofili all'interno del canile stesso, dove noi parleremo della nostra situazione familiare, di noi stessi e loro ci potranno aiutare a indicarci quali sono gli animali migliori per la nostra situazione. Nel caso invece dovessimo decidere di acquistare un cane, a chi ci dobbiamo rivolgere, come ci dobbiamo comportare? Purtroppo non siamo tutelati e il mestiere di allevatore non è un mestiere in un certo senso riconosciuto. Il termine allevatore anche nella legge italiana è colui che è semplicemente il proprietario della femmina, e quindi il proprietario della cucciolata, ma non è specificato nient'altro. Allora una famiglia che si approccia all'acquisto di un cane deve innanzitutto informarsi, diciamo così personalmente, ovvero deve pensare alla razza e cercare di capire quali sono anche le patologie, per dire, tipiche della razza. Dopodiché deve, dovrebbero non tanto cercare i grandi affari nei cani, perché purtroppo non è così, ma cercare i allevamenti coscienziosi e eticamente corretti. Come si fa? Non è facile, però partiamo sicuramente da alcuni punti. Il primo punto, allevatore amatoriale o allevatore professionale è colui che è iscritto all'ENCI, unico organo ufficiale e riconosciuto dal Ministero di Politica Agricole e Forestali, che può dare l'affisso. Che cos'è l'affisso? L'affisso è il riconoscimento dei cani che escono da quell'allevamento stesso. Generalmente sta dietro o davanti al nome del cane stesso. Noi ci chiamiamo botoli ringhiosi e i miei cani hanno un nome, tipo il cane che abbiamo qui, si chiama Giulia Ottavia, dei botoli ringhiosi. Esiste questa lista di allevatori con affisso, che avendo l'affisso, chi ha l'affisso firma anche un codice etico, quindi già questo è un punto importante. Questa è una tutela, anche una garanzia? È una prima garanzia sicuramente, una delle tante che bisogna valutare quando ci si approccia agli allevatori. Ecco, la prima garanzia è che insomma un allevatore ha già firmato un codice etico, riconosciuto appunto da Lenci stesso. L'altro elemento è il pedigree. Il pedigree assolutamente. La domanda assurda che spesso ci si può sentir dire è la scelta vuole il cane con e senza pedigree. È una domanda assurda che non sta, come si dice, nel cielo né in terra. Il cane che esce da un allevamento, il cane di razza, esce solo ed esclusivamente con pedigree. Il pedigree ha un prezzo che oscille da 22 a 25 euro circa, quindi le differenze di prezzo che qualcuno chiede sono assolutamente assurde. Chi fa la domanda con pedigree e senza è una persona da segnalare proprio a Lenci stessa, perché appunto è una cosa che non può assolutamente esistere. Anzi, chi fa questa domanda ho il dubbio che faccia arrivare dei cani da chissà dove, senza alcun criterio, dove fanno delle produzioni scellerate, dove tengono dei cani in dei posti strettissimi e inducono calori e fanno partorire i cani in continuazione e poi attaccano un pedigree magari che quel cliente, che quella persona non ha preso e dicono invece che è dell'altro cane. Sembra un assurdo, purtroppo può succedere questo. Quindi, qualsiasi persona che chiede col pedigree e senza è da segnalare immediatamente a Lenci. E col pedigree però dovrebbe garantirmi anche delle certezze per quanto riguarda la salute del cane, per il futuro del cane? Il pedigree ci dà tutta una serie di informazioni che possono variare da razza a razza. Sicuramente in tutti i pedigree ci sono segnati tutta la genealogia, quindi ci sono segnati i genitori, ci sono segnati i progenitori, i bisnonni, i nonni, i bisnonni, eccetera. C'è fino a quattro generazioni il pedigree. In molte razze ci sono segnati anche gli esami che devono essere fatti d'obbligo per i cani di quella razza stessa, mi viene da pensare il labrador e la displasia, ad esempio. Oltretutto poi c'è anche una parte dove si evidenzia i cani che hanno raggiunto dei campionati di bellezza o di lavoro, secondo sempre le razze, ci ha segnato anche questo nel pedigree. Il pedigree non è di certo quella cosa che ci serve per fare le esposizioni. Il pedigree è la carta di identità del cane, è anche la serietà dell'allevatore, è quello che ci dice che gli sangui ci sono, è quello dove si può notare anche se ci sono dei cani che magari non hanno passati certi esami di salute, sanitari, dico. Quindi insomma il pedigree è sicuramente una cosa fondamentale. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre per la prossima puntata. Ciao!